Ciao a tutti, eccomi qua con un nuovo video. Devo guardare la videocamera, là. Ciao a tutti. Per l'occasione, questa volta, ho pure una fotocamera più professionale che ancora non si usare molto bene. E anche i fiori per una scenografia più sensazionale. Di che cosa vi parlerò oggi? Oggi voglio preparare un piatto tipico coreano, il kimbap. Che cos'è il kimbap? Il kimbap è un rotolo di riso e alga simile al sushi giapponese. Kim in coreano significa alga e bab significa riso. Il procedimento è un poco lungo, però molto divertente. Io di solito quando provo a fare il kimbap ho difficoltà da rotolarli, quindi vediamo se oggi riuscirò a farli per bene. Non so se avete notato, ma ho difficoltà a tenere le mie mani ferme mentre parlo. Vabbè. Iniziamo. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.